Dopo anni su YouTube ho raggiunto i miei primi mille iscritti e l'ho fatto dopo 360 video e tu dici ma sono veramente tanti video? Cioè come hai fatto a metterci così tanto? Beh in questo video te ne parlo, ti parlo di errori catastrofici che ho commesso in questi anni e solo dopo che ho capito che cosa stavo sbagliando e quindi negli ultimi sei mesi ho raggiunto 900 iscritti oggi ti parlerò proprio che cosa ho capito, gli errori grandissimi gravissimi mannaggia a me che stavo commettendo e che ho commesso in questi anni per cui ho perso una marea di tempo voglio condividere questa esperienza con te, mi piacerebbe fare più contenuti come questo proprio per ragionare sui numeri dei piccolini, dei piccoli micro creators, micro bi e vogliamo proprio andare ad analizzare le dinamiche che caratterizzano i nostri canali perché sono completamente diverse dai grandi canali, da quelli che hanno migliaia di iscritti e che ci parlano di strategie su youtube, di macro strategie, che sono in assoluto delle strategie corrette ma che molto spesso non funzionano sui canali dei piccoli ebbene sì, voglio proprio partire dal primo grandissimo errore che ho commesso cioè quello di ascoltare i grandi creators e quindi ascoltare le loro grandi verità che in realtà sono delle cose anche corrette, rivedo, non sono sbagliate cioè se noi parliamo di titolo, copertina, della nicchia, di watch time, di tutte queste robe qua in linea di massima sono cose molto utili e cose importanti che anche youtube stesso ci dice ma applicate a canali grandi hanno un significato completamente diverso rispetto a quando sono applicate queste dinamiche ai canali piccolini perché nei canali piccolini nel momento in cui parti devi focalizzarti su altre cose e ti parlerò in questo video sulle cose su cui ti devi focalizzare quindi il primo errore è paragonare diciamo il mio anno zero a magari all'anno 5, all'anno 6 di qualcun altro quindi ascoltare troppo consigli dei grandi creators che hanno delle dinamiche completamente diverse il secondo grande errore che ho commesso su youtube è la mancanza di costanza e a che cosa mi riferisco? Mi riferisco proprio alla mancanza di un ritmo regolare di pubblicazione dei video questo non significa che devi pubblicare per forza 7 video a settimana ma anche se sono, se è un video a settimana importante che tu abbia una regolarità quindi dici ok pubblico ogni mercoledì, ogni settimana un video fallo altrimenti il rischio è quello di commettere lo stesso errore che ho commesso io quindi andare a periodi, realizzare magari più video in un periodo poi sparire per 3-4 mesi adesso ti faccio vedere a che cosa mi riferisco proprio in dettaglio innanzitutto già ho fatto un errore madornale che è andare e partire praticamente con un podcast audio e poi mettere questi video qua sul canale nuovo e già questa cosa secondo me tornassi indietro non la rifarei mai cioè parti subito con i video infatti diciamo all'inizio ho tra virgolette sporcato il canale con questi contenuti vabbè una visualizzazione, quattro visualizzazioni e comunque partire con un canale fresco che subito ti inquadri è sempre la migliore soluzione dopodiché ho cominciato a fare delle cose un po' così sporadiche, insensate praticamente ho fatto qualche video così in questo periodo ho fatto 3 video vedete qua in ufficio poi sono risparito poi ho rifatto altri video praticamente in un anno qui ho fatto vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 12 vedete facevo più o meno un video al mese però il video al mese che facevo poteva essere per esempio questo qua magari ho fatto 4 video in un mese e poi magari 2-3 mesi non facevo nulla ok? e questo ovviamente non dava abbastanza dati a youtube mancava di regolarità eccetera poi di nuovo riapparivo facevo un po' di video vedete qua ho fatto poi risparivo un'altra volta vedete quest'anno ho fatto tipo qua ho fatto non so una decina di video al massimo poi riapparivo con un format completamente diverso vedete qua con delle interviste con alcuni miei amici e poi risparivo un'altra volta e poi sono riapparso un anno fa con qualche attività lo potete vedere anche dalle diverse copertine che utilizzavo no? perché ogni volta che ritornavo su youtube mamma mia ritornavo con delle copertine con delle copertine diverse vabbè e poi riapparivo un'altra volta e poi ecco un anno fa poi ho cominciato un anno fa ho ricominciato a fare qualcosina ok praticamente vi faccio vedere invece da quando ho cominciato a pubblicare più regolarmente qua ecco qua diciamo che ho cominciato a pubblicare regolarmente da questa fase qui vedete quando sono cominciate queste copertine qua cioè da questo momento in poi ho cominciato ad avere più serietà nella pubblicazione lo vedete anche no? più o meno sto utilizzando anche nello stesso stile delle copertine eccetera e questa cosa che cosa ha fatto? ha fatto abituare diciamo il mio pubblico voi le persone che mi seguite e magari mi ha fatto anche guadagnare un po' di credibilità in quello che faccio perché magari ho parlato sempre di più strumenti strategie di marketing insomma consigli per imprenditori creators e professionisti che sono un po' le tematiche di questo canale e quindi grazie a questa cosa ho creato diciamo un rapporto con alcuni di voi e per cui diciamo ormai adesso in questo momento siamo più di 1200 persone sul canale però ripeto sempre questa cosa 1200 persone sul canale youtube sono magari i 100.000 follower su tiktok nel senso che il rapporto che si stringe è molto più forte infatti con diversi di voi mi sento sui social media su telegram via mail e quindi si è creato un bellissimo rapporto però questa cosa si può fare soltanto mantenendo una certa costanza regolarità di pubblicazione non avere una routine di produzione è un altro grandissimo errore che ho fatto su youtube quindi dire vabbè faccio un video quando ho tempo oppure si vabbè poi magari il fine settimana mi metto lì monto le cose e giro questo è un grandissimo errore perché non ti aiuta nella nella cosa di cui abbiamo parlato prima quindi nell'avere una certa costanza soltanto dal momento in cui ho cominciato ad avere una routine di produzione quindi prepararmi non so il contenuto prima cercando di capire quali erano gli argomenti dopodiché scegliermi un giorno per girare questa è un'altra cosa super importante che è stata per me quindi girare tutto in un giorno a settimana e poi schedulare i video nei giorni a seguire non pubblicare ogni volta un video al giorno o comunque tre video a settimana o quello che sono dopodiché avere un giorno dove faccio editing avere un giorno in cui faccio le copertine ecco organizzarmi la produzione per funzioni quindi diciamo si chiama batch processing questo tipo di meccanismo no e time blocking queste due cose mi hanno completamente cambiato la vita diciamo in ambito di produzione di contenuto un altro grande errore che ho commesso è non avere la postazione fissa di produzione dei video per cui infatti l'avete visto sul mio canale una volta giravo in ufficio perché lì in pausa pranzo lavoravo ancora come dipendente in pausa pranzo praticamente quando non c'era nessuno in ufficio io mi mettevo a girare i video ok dopodiché c'era un'altra fase un altro giorno magari giravo nello studietto a casa oppure nella camera da letto ecco questa cosa non è legata al fatto che non hai uno studio professionale ma è più che altro legato a un discorso di mindset cioè se tu hai anche uno sgabuzzino però sai che quello sgabuzzino lì è dedicato alla produzione dei video indipendentemente dall'aspetto estetico quella roba sai che nel momento in cui tu entri lì dentro tu devi produrre ti prepari tutto ti prepari già un set quindi diminuisci le frizioni questo questo lo dicono tutti tutti i creati sgrandi piccoli tutti quelli che creano contenuti in modo costante dicono sta cosa qua ed effettivamente è vero quindi cerca di ridurre le frizioni quindi soltanto nel momento in cui io ho cominciato all'inizio l'ho fatto a casa dopodiché ho preso un mio ufficio nel momento in cui poi ho cominciato a lavorare come freelance quindi mi sono messo in proprio mi sono preso un ufficio allora a quel punto in ufficio ho creato un piccolo angoletto una postazione che è sempre quella infatti voi vedete sempre la stessa inquadratura sempre la stessa postazione dove ho già montate le luci dove ho già montato il microfono con questa asta qui dove ho già montata la videocamera quindi io non devo fare altro che attaccare i fili e premere record e quindi riesco magari a registrare in un'ora e mezzo se ho già i video pronti magari 3-4 video se utilizzi youtube non come un archivio personale ma come un tuo canale di comunicazione dove vuoi parlare a delle persone un errore che non devi commettere e che io ho commesso è quello di fare video per se stessi pensati per se stessi più che per altre persone a che cosa mi riferisco ogni volta che fai un video e questa roba io fino a un certo punto fino a 6 mesi fa non l'ho mai fatta domandati questo video per chi è cioè quindi cerca proprio di immaginarti la persona Pietro Giovanni che cosa fa nella vita che tipo di problemi ha quali sono le sue difficoltà quali sono i suoi obiettivi bene quale problema risolve questo video e qual è l'obiettivo di questo video all'interno anche della tua strategia di crescita del canale della comunicazione ecco se tu fai video per altri e quindi risolvi dei problemi allora a quel punto quel video diventa visto diventa un video fruito con piacere se invece fai video autoreferenziali video per te stesso soprattutto all'inizio è un grandissimo errore sempre se tu vuoi creare un canale chiaramente di comunicazione quindi una community un seguito però se tu vuoi creare un canale youtube dove fai non so vuoi archiviare semplicemente roba che ti passa per la testa sappi che è un'altra roba ok e questo è un errore che io ho commesso all'inizio perché all'inizio io che cosa facevo magari non so testavo una tecnica di marketing imparavo una nuova roba e io praticamente facevo un contenuto no e dicevo nella mia testa vabbè si questa roba io l'ho imparata è figa sicuramente è utile a qualcuno ma non era sempre così soprattutto all'inizio se magari io parlavo di che ne so panel marketing avanzato con i modelli di bridge che praticamente sono dei modelli di comunicazione che uniscono le diverse fasi di acquisto di un utente è una roba abbastanza tecnica cioè difficilmente le persone consapevolmente vanno a cercare quella roba lì quindi è un video che io facevo alla fine non per gli altri ma per me stesso perché non avevo verificato un prima un effettivo interesse verso la materia un'altra roba dove mi sono proprio scontrato dove ho battuto la testa proprio forte 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 è questo discorso della nicchia all'inizio focalizzarsi sulla nicchia intesa come un ambito specifico di mercato non so la nicchia dei per esempio social media la nicchia dei telefoni android la nicchia della non so scarpe da ginnastica con materiale sostenibile fai un canale di recensione di questo tipo cioè focalizzarti troppo sulla nicchia quindi farti tremila paranoie è un problema cioè è meglio focalizzarti all'inizio sulla tua audience quindi non sul mercato ma sulle persone e questa cosa mi ha completamente switchato l'approccio cioè non pensare prima di fare il video qual è l'argomento del video ma più che altro pensare come prima cosa alle persone che vedranno questo video pensare ai loro problemi pensare a quali sono le cose che vorrebbero sapere i problemi che vorresti risolvere in questo ambito potrebbe aiutarti anche un approccio del tipo pain gains quindi la classica matrice della value proposition no e quindi che cosa fai tu praticamente ti focalizzi sulla tua audience te la immagini pensi a quali sono i problemi che potrebbe avere e dopodiché dici ok questi sono non so dieci problemi dieci obiettivi che vuole raggiungere no allora a questo punto cerchi di trovare il video per ogni problema che questa audience vuole risolvere e non al contrario non partendo prima dagli argomenti e poi immaginare se questo argomento potrebbe effettivamente interessare alla tua persona alla tua audience e questa cosa sembra una banalità ma quando approcci pensando alla audience in termini un pochino più generali solo dopo all'argomento e solo dopo alla nicchia soprattutto se è un canale piccolo questo ti aiuta perché ti aiuta ad intercettare le problematiche che le persone cercano di risolvere a questa cosa si collega un altro problema fare video troppo generici all'inizio quando parti del tuo viaggio su youtube è un problema perché molto probabilmente ti scontri con grandissimi canali che hanno già trattato questo argomento per cui il tuo canale sarà molto difficile che venga suggerito in ambito proprio SEO è molto difficile che venga suggerito in ambito proprio di algoritmo di suggerimenti perché magari youtube non ha abbastanza dati per suggerire i tuoi video ad utenti potrebbero essere interessati e quindi se tu fai dei video troppo generici per esempio non so riprendo l'esempio ho fatto un altro video del giardinaggio se tu parli del giardinaggio in generale all'inizio che cos'è il giardinaggio è molto difficile che tu riesca a posizionarti con il tuo video quindi all'inizio ho capito sulla mia pelle ovviamente che era fondamentale posizionarsi sulla coda lunga coda lunga che cosa significa quindi fare video molto specifici che già sai che prenderanno meno views nel senso che non hanno le potenzialità per diventare un video virale ma all'inizio è inutile che tu cerchi il video virale devi cercare di intercettare una domanda consapevole di persone che stanno cercando proprio digitando quelle parole chiave stanno cercando di rispondere a delle domande a dei dubbi specifici per cui il tuo video nel momento in cui uscirà fuori sarà talmente tanto specifico da risolvere il loro problema specifico che loro preferiranno vedere il tuo video magari rispetto a quello di un canale da 100.000 follower da 100.000 iscritti che però ha un video meno specifico ma più generico perché sanno che vogliono quel tipo di risposta che tu fornisci nei tuoi video un'altra filosofia che mi ha cambiato completamente l'approccio è meglio tanti video che tanto editing ok quindi io all'inizio cosa facevo facevo magari il mio video dopo passavo tre ore ad editarlo andando a tagliare tutte le pause tutti gli errori e questa cosa ovviamente riduceva la mia capacità di produzione soprattutto se come me io per esempio non sono un creator fondamentalmente sono un professionista che diciamo un pochino per passione per hobby d'altra parte diciamo anche come strumento di comunicazione mio personale utilizzo youtube però diciamo quella roba è per me secondaria nel mio modello di business cioè la parte che riguarda la comunicazione quindi non monetizzo con quello d'accordo e che cosa significa significa che devo riuscire ad ottimizzare le mie forze i miei sforzi per produrre più video possibili perché ho capito che all'inizio è anche un discorso di quantità cioè io non so tanti dicono vabbè ma non ti concentrare troppo sulla quantità devi cercare la qualità oggi su youtube ok ci può stare ma se tu sei consapevole di essere un genio siccome non sono un genio non sono non so Luis di turno che fa un video all'anno che fa un video assurdo che tu non dici ma come è possibile un MrBeast che fa spende milioni milioni per ogni video ecco nel nostro caso quindi io preferisco non so tornando sul discorso di un argomento con quattro magari sotto argomenti che potrebbero trattare un tema quindi i video razz rispondi a domande specifiche no preferisco rispondere a tre domande specifiche fare meno montaggio e pubblicare più video e questa cosa ti porterà a migliorare ti porterà anche statisticamente raggiungere più persone e a dare più materiale soprattutto all'inizio youtube per avere dei dati insomma a disposizione per suggerire i tuoi video anche se in editing scarseggi quindi se l'editing non è perfetto secondo me o quello che ho imparato negli ultimi mesi meglio tanti video che tanto edit se proprio devi spendere un pochino di tempo io preferisco spenderlo dove nella preparazione del video più che nella post produzione quindi la preparazione del video io per esempio non faccio lo script perché sarei veramente troppo innaturale mi segno alcune cose alcuni punti e faccio una struttura al video questo è un altro grande errore che io commettevo prima cioè magari io conoscevo un argomento dicevo ok io l'argomento lo conosco quindi basta parlo come al mio amico al bar e cercando così di raccontare questo argomento mi sono reso conto che questo è un errore perché ovviamente l'attenzione che tu hai attraverso la videocamera indipendentemente dal tuo carisma dalla tua personalità comunque già l'attenzione viene diminuita viene filtrata rispetto a un contatto fisico rispetto a un discorso live allora che cosa devi fare secondo me e quello che sto facendo fare una struttura preparare una struttura del video dove sai che ogni video ha una parte iniziale quindi c'è la parte dell'opener dell'apertura dove tu magari non so introduci l'argomento cerchi di attirare l'attenzione dello spettatore magari c'è una parte di brand elevation di content elevation nel senso che cerchi di focalizzare di ancorare lo spettatore dove dici ok perché questo contenuto è importante per te cerchi un attimino di dirgli guarda questo contenuto ti aiuterà a piantare delle rape rosse assurde no per dire ed è incredibile perché utilizzo una tecnica di cui ti parlerò alla fine del video che mi fa risparmiare tempo e semi non so se ho veramente una capra non so un pollice verde tipo un pollice nero comunque insomma ci siamo capiti cerchi di elevare il contenuto dopo di che c'è il corpo del contenuto la chiusura le call to action cioè non dare per scontato che tu metti play no metti rec e dopo di che fai il contenuto lo conosci l'argomento e esce fuori un contenuto che sia fruibile perché magari è fruibile da te chi l'hai registrato ma dalla persona che magari sta imparando quell'argomento comunque interessato a quell'argomento magari potrebbe essere destrutturato quindi dare la struttura al video secondo me è molto importante un altro grandissimo errore mannaggia a me che ho fatto è fare dei video scegliere degli argomenti senza prima assicurarmi di che ci sia interesse verso quell'argomento quindi ritorno funnel marketing non il mio campo ok c'era un momento dove nel campo diciamo di comunicazione il funnel era in super hype ti parlavo di questo funnel quando c'era Russell Branson che insomma ne parlava con tutti i libri e soltanto che poi io non è che mi sono sincerato di verificare se c'era un interesse effettivo verso questo argomento soprattutto in ambito di domanda consapevole perché all'inizio ripeto secondo me è molto meglio e questo è quello che sto vedendo io personalmente focalizzarsi su quelle che sono le ricerche attive non su quello che le persone potrebbero gradire quindi non ragionare in termini di domanda latente perché devi cercare anche di intercettare il traffico esterno il traffico da google il traffico da da motore di ricerca di youtube e quindi cercare di intercettare quello che le persone cercano e ci sono diversi strumenti che ti aiutano in questo ok e questo è un altro grandissimo errore che ho fatto e che spero che tu non commetta tutti questi errori che ovviamente l'ho diciamo purtroppo imparati sulla mia pelle perdendo tantissimo tempo però ovviamente nel frattempo ho fatto altro nel senso che per carità è che sono stato 5 anni a fare soltanto video su youtube però ovviamente in 5 anni si potevano fare molte più cose molte più cose in modo intelligente ottimizzando le risorse visto che di video ne ho fatti tanti tanto vale di fare dei video tenendo in considerazione tutte le cose di cui ti ho parlato quindi questi sono stati i motivi fondamentalmente per cui fino a un certo punto prima di aver capito tutte queste cose quindi prima di aver unito i puntini non riuscivo a sbloccarmi non riuscivo a crescere sulla piattaforma d'accordo ti lascio qui un video molto interessante secondo me sempre in termini di crescita di canali piccoli che è come ottenere visualizzazioni all'inizio quindi è un video che parla proprio di tecniche raz termini in ambito della ricerca specifica di alcuni argomenti come trovare idee per video per canali piccoli che ottengano visualizzazioni indipendentemente dall'algoritmo e tutte queste robe qua quindi te lo lascio qui iscriviti al canale se questo video ti è piaciuto e noi ci vediamo ci sentiamo alla prossima la youtube è piaciuto